Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per andarvi a mostrare le 10 migliori app per la scuola. Prima di iniziare col video vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi mai nessun video e di lasciare like. Detto questo, iniziamo! La prima app che vi consiglio è sicuramente Forest. A prendere troviamo questa piantina in cui possiamo inserire il nostro tempo di studio, massimo fino a 2 ore. E' anche un modo divertente per studiare perché potremo vedere tutti i nostri alberi piantati. Possiamo anche attivare la concentrazione intensiva, ovvero che se usciamo dall'app ci eliminerà tutto l'albero, quindi appassirà. La seconda app che vi consiglio è Note iOS 16. Creare note proprio come quelle dell'iPhone. E' molto utile per fare elenchi e... niente, ve la consiglio. La terza app che vi consiglio è Zen Flip Clock. Per tenere conto del nostro tempo di studio. Lo possiamo mettere qui alla scrivania e poi ci conterà il nostro tempo di studio. Possiamo andare a mettere un timer da 25 minuti, come con la tecnica Pomodoro, in modo da fare 25 minuti di studio e 5 minuti di pausa. Possiamo eppure utilizzarlo come cronometro e scegliere tantissimi temi diversi. La quarta app che vi consiglio è Google Earth. Ve la consiglio soprattutto per geografia, per magari fare delle ricerche su un territorio e vedere come è formato. La quarta app che vi consiglio è Duolingo. Per imparare un sacco di lingue, come inglese, francese, tedesco e spagnolo. Possiamo fare diverse lezioni sia utilizzando la voce sia utilizzando la tastiera. E aumentare di posizione nella classifica. La quinta app che vi consiglio è Meet, non ve la sto neanche ad aprire, però per fare le video-direzioni ve lo consiglio tantissimo. La sesta app che vi consiglio invece è Google Documenti. È molto utile per prendere note e per tutto sincronizzato col vostro account Google, quindi non dovreste stare a riscrivere tutto da capo, ma avrete tutto sincronizzato. Possiamo mettere la scritta in grassetto, evidenziare oppure anche fare elenchi. La settima app che vi consiglio è Media Scolastica. Qui possiamo andare ad aggiungere la nostra materia. Dopodiché possiamo andare ad inserire un nuovo voto. Possiamo andare a mettere sia uno scritto, orale, pratico o un compito per casa. Facciamo ad esempio scritto, scriviamo un numero e poi qui ce lo aggiungerà alla nostra media. Ad esempio io aggiungo diversi voti e ci farà la media generale. E l'ultima app si chiama Easy Study. Qui ci farà aggiungere una materia. E anche scegliere un colore. Qui possiamo andare a mettere un compito da fare, ad esempio pagina 2. Pagina 3, argomento grammatica, non lo so. Poi possiamo aggiungere anche dei dettagli. Mettere quando scade il progetto. E possiamo andare a segnare se l'abbiamo fatta. E niente, il video finisce qui. Spero tanto vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel like. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!